ben trovate tutti voi amici di le fonti tv con la nostra sigla il nostro instant focus si apre lo spazio dedicato ai nostri approfondimenti con interviste e temi che sono sicuramente centrali e di cui parliamo quotidianamente e con il nostro instant focus come sapete riprendiamo proprio quei temi che ci riportano ad analizzare dei settori di riferimento dei settori di business cercando di capire cosa è cambiato qual è stata la loro evoluzione a partire naturalmente dall'anno 2020 che fa un po da spartiacque rispetto al passato e al futuro che è l'anno della pandemia in cui tutto si è un po rimescolato in cui i settori di riferimento appunto hanno dovuto fare i conti con ciò che inevitabilmente doveva modificarsi e allora ripartiremo da alcune parole chiave che sono anche quelle contenute nel titolo del nostro approfondimento tecnologia innovazione la fanno sicuramente da padroni ma anche ecologia perché oggi ci concentriamo sull'evoluzione della riparazione auto made in italia allora io ho appuntato alcuni macro temi che a mio parere sarà interessante raccontarvi in questo in questo spazio perché intanto 2020 come detto l'anno della pandemia soprattutto con il lockdown c'è stato un crollo forzato dell'utilizzo dei mezzi di trasporto perché non ci potevamo muovere quindi di conseguenza anche gli interventi di riparazione sono stati in qualche modo bloccati anche se quando ci riferiamo a officine carrozzerie dobbiamo anche dire che non hanno smesso totalmente di operare sono comunque rimaste attive chiaramente con un carico di lavoro è differente poi cos'è accaduto tutto è ripartito quindi di conseguenza il lavoro è ripartito allo stesso modo e anzi inevitabilmente come detto anche questo comparto ha dovuto fare i conti con qualcosa che era cambiato qualcosa che era cambiato se ci riferiamo a questo potrebbero essere i cambiamenti climatici perché parliamo di fenomeni meteorologici sempre più imprevedibili quindi con possibile conseguente diciamo cause e danni riportati alle automobili mi riferisco per esempio alla grandine tanto per fare un esempio portando così un'attenzione assolutamente sempre crescente sul tema da parte di automobilisti operatori del settore che devono assolutamente andare verso il cliente anche compagnie assicurative che devono fare i conti con tutto ciò e poi parleremo di sostenibilità di aziende e prodotti anche in questo settore cresce l'importanza per i consumatori verso ricambi interventi a basso impatto ambientale anche questo è un focus che visto che ci seguite sempre sapete affrontiamo assolutamente quotidianamente promossi da aziende attente all'ecologia e all'economia circolare io penso di aver detto anche fin troppo perché devo introdurre i miei ospiti che sicuramente approfondiranno ancor di più questi temi do il benvenuto in studio da noi ad angelo vicino sio gruppo maestri grazie per essere con noi grazie anche voi e grazie anche a mario rapetti direttore marketing gruppo maestri grazie anche a te grazie grazie azienda italiana che lavora nel mercato proprio della riparazione automobilistica per questo ho portato l'esempio della grandine che è un esempio banale ma che dà l'idea anche degli interventi che bisogna poi portare quando ci sono dei cambiamenti climatici ma andiamo per gradi direi partiamo da quella che è la domanda più semplice vorremmo sapere qualcosa di più di maestri della grandine insomma per inquadrarvi nel settore di riferimento di cui parlavamo certo maestri della grandine nasce nel 2009 grazie a delle esperienze estere che mi hanno portato a girare diciamo tutto il continente dall'australia all'america per tre anni e poi tutta l'europa quindi con il riassunto di quello che ho visto e appunto le auto grandinate e i tipi di modelli che avevano i vari stati nel 2009 creò questa società appunto per portarla in italia e cercare di andare a dare delle risposte appunto alle alle compagnie assicuratrici per la riparazione di auto grandinate quindi oggi siamo un'azienda che sul territorio è una delle più organizzate ripariamo oltre 30 mila veicoli grandinati su tutto territorio con una rete capillare di oltre mille carrozzerie e quindi siamo ci siamo bene organizzati e abbiamo portato questo progetto alle appunto le compagnie che che ci hanno richiesto questi tipi di interventi è corretto dire che il 2020 è fatto un po da spartiacco rispetto a quello che era prima e quello che poi è ripartito giusto anche per questo settore di riferimento perché poi dobbiamo fare i conti con un'evoluzione che comunque credo abbia portato poi magari lo capiremo anche dei degli aspetti positivi insomma probabilmente anche un'evoluzione che sarebbe stata un po meno veloce no se non ci fosse stato quello che c'è stato quindi sarà interessante capire come si è voluto anche il vostro lavoro non so se l'ho interrotta se ci possiamo dare del tuo anzi questo perché è bello far quando quando noi facciamo questi approfondimenti vogliamo sentire la voce reale no degli dei nostri interlocutori per far capire anche come proseguire come guardare al futuro dopo torno naturalmente da te però io andrei proprio da da mario a questo punto da mario rapetti per capire anche come vi siete rapportati a quello che è successo attraverso quello che è il vostro specifico modello di business cioè come avete reagito di fronte a questi cambiamenti di cui accennavamo certo diciamo che quest'anno abbiamo sicuramente dei fronte una un anno importante perché siamo dovuti comunque abbiamo continuato a fornire i nostri servizi perché a differenza di quello che è il lockdown le perturbazioni gli eventi grandinigeni non hanno risparmiato il territorio nazionale quindi abbiamo dovuto fare i conti innanzitutto con con queste con queste precipitazioni che sono state anche quest'anno particolarmente invasive e ultimamente purtroppo registriamo sempre di più una una continua interessamento di tutto il nostro territorio nazionale di questo tipo di perturbazioni e appunto abbiamo dovuto fare i conti con alcune inevitabili conseguenze strascichi del covid ad esempio l'approvvigionamento dei ricambi gli aumenti dei trasporti dei costi dei trasporti e l'inevitabile mancanza di l'approvvigionamento di automobili sostitutive perché il mercato dell'automobile del mercato del nuovo si è fermato e quindi anche qui abbiamo dovuto fare i conti e abbiamo dovuto affrontare diversi temi sfidanti peraltro esatto un tema che insomma siamo assolutamente sul pezzo è quello dell'aumento dei costi e della difficoltà di riperimento dei materiali questo è un mix credo molto complicato poi no da abbattere e peraltro dobbiamo anche ricordare che sono arrivati incentivi statali regionali che hanno permesso una parziale sostituzione dei mezzi più inquinanti però sicuramente in circolazione immagino però lo chiedo a voi c'è ancora molto da fare corretto nonostante questi incentivi quindi non bastano fondamentalmente no no effettivamente poi sicuramente l'italia è un territorio frammentato dove quindi ci sono alcune zone dove l'economia a un diciamo una certa velocità altre dove sono un po un po minore sicuramente ci sarà bisogno di un periodo di lungo respiro prima che ci si adatti a questi cambiamenti del resto viene da sé insomma che se i prezzi aumentano è anche più complicato per le famiglie supportare e sopportare dei costi per cambiare i veicoli e credo che anche angelo in questo si possa allineare giusto esatto esatto quindi questa è la difficoltà sicuramente del periodo allora io tornerei ancora da mario per andare un po più nel nel dettaglio no per capire anche come in questo momento con tanti punti interrogativi si riesca a consolidare l'immagine a partire dal brand naturalmente di riferimento anche per far comprendere alle persone che sono dei vostri punti di riferimento come vi potete avvicinare no a loro credo che sia fondamentale come vi organizzate in questo senso ma allora come diceva prima angelo la nostra realtà collabora con le più importanti realtà assicurative nazionali noi diamo un contributo eroghiamo un servizio la grandine è il nostro core business la riparazione di automobili danneggiate da appunto da da eventi grandinigeni per le compagnie abbiamo siamo riusciti a offrire una un contratto una una un sistema di forniture dove standardizziamo il prezzo e garantiamo un'alta qualità attraverso le tantissime carrozzerie che fanno parte del nostro del nostro brand perché questa è un po forse una una chiave che l'italia deve deve imparare a a copiare dal resto delle le grandi catene l'importanza di una piccola realtà visto che l'italia è una 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 nazione che ha tantissime micro imprese e noi parliamo del settore dell'autoriparazione è un settore piuttosto frastagliato piuttosto non omogeneo su tutto il territorio nazionale l'importanza da parte di questi piccoli artigiani o comunque realtà locali di riunirsi sotto un brand di facile facile facilmente riconosciuto fa sì che diciamo abbiamo la possibilità di offrire un servizio smart a al al cliente finale che è colui il quale sfortunatamente ha il problema sulla sua automobile certo assolutamente sì beh allora ci sono due punti a questo punto scusate la ripetizione che vale la pena comprendere dicevamo prima punti di riferimento voi dovete far capire no come diciamo siete vicini a chi vi si rivolge a voi questo è fondamentale quindi due aspetti che volevo analizzare con voi riguardano da una parte la rete di assistenza quindi come si come siete organizzati anche da questo punto di vista e anche come perché a me piace sempre fare un po riferimento a come è cambiato il panorama generale no quindi come magari era prima e come invece avete dovuto riorganizzarvi magari mi direte che non è cambiato nulla ma dubito perché è cambiato un po per tutti e poi come eventualmente è cambiato anche il rapporto con le compagnie assicurative cioè come si instaura questo rapporto come si è pre covid sono sicuramente cambiati dei temi importanti ripeto sul territorio c'è stato un momento ora lentamente stiamo tornando alla normalità ma bisogna ammettere che questo stop forzato dei veicoli che circolano ha sicuramente creato una fase in cui tantissimi tantissimi operatori del settore avevano un po meno lavoro la nostra volontà è quella di essere un portale presso attraverso del quale l'imprenditore che ci sceglie di lavorare con il nostro brand è il l'attore del territorio quindi attraverso il nostro portale ci sono delle opportunità di lavoro che vengono trasmesse appunto al territorio se prima già il nostro servizio era premiante oggi forse lo è ancora di più perché attraverso l'attività commerciale attraverso quelle che sono state degli investimenti umani sul territorio oggi diciamo raccogliamo i frutti di questa di questa operazione e il covid in questo senso è stato un momento che ha accelerato questa 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 transizione quindi positivo perché ha accelerato questo nuovo processo giusto beh potremmo dire così poi chiaramente insomma usare affiancare la parola positiva al covid non è mai corretto però come tutte le occasioni non preventivate pone da un lato un cambiamento forzato alla quale bisogna fare immediatamente buon viso a cattivo gioco da un altro sicuramente noi avevamo già iniziato a collaborare con le nostre con le compagnie assicurative con le quali appunto collaboriamo con le quali appunto lavoriamo e diciamo che ecco in questo momento particolarmente drammatico non ha fatto altro che forse darci ragione e dare ragione a chi ha scelto di collaborare con maestri esatto volevo aggiungere anche certo certo angelo stavo proprio chiedendo se volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo questi vantaggi insomma di cui mario parlava i vantaggi sono stati soprattutto anche per le compagnie perché volevo precisare che prima l'indotto della riparazione della grandine loro avevano a che fare con tutte le creazioni del territorio noi oggi con il nostro con nostro meccanismo riusciamo a parlare loro riescono a parlare con noi e quindi hanno solo un interlocutore quindi noi ci appoggiamo a tutte le carrozzerie controlliamo se ci sono delle frodi controlliamo se ci sono delle riparazioni non eseguite regola d'arte e soprattutto emettiamo una fattura per la compagnia quindi la compagnia non ha più a che fare con mille soggetti ma a che fare con maestri della grandine quindi con il gruppo maestri di comunicazione che insomma facilita un po' tutti i passaggi quindi i passaggi sono molto più veloci noi facciamo da consente facciamo da autostitutivo per le carrozzerie quindi diamo noi le vetture su tutto territorio oggi siamo una piccola flotta noi ci poniamo come unici interlocutori e come facciamo agiamo sul territorio attraverso degli stakeholders delle carrozzerie convenzionate con noi che sono poi coloro i quali intrattengono il rapporto con il territorio assolutamente sì sì diciamo che non c'è una dispersione no appunto di comunicazione di energia quindi anche per immagino le compagnie assicurative anche loro avranno più facilità poi nel rapportarsi con è un po un rapporto virtuoso a cascata no che 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 crea poi un meccanismo ancora più agile meno male perché permettetemi insomma non in questo settore in generale nella gestione degli affari tutti italiani a volte proprio ci blocchiamo proprio perché ci sono vari step troppe persone a cui chiedere troppe persone che dicono la loro invece in questo caso si ottimizza assolutamente tutto quindi ecco questa è una delle questioni che secondo voi ha migliorato indubbiamente il servizio in generale proprio perché parliamo di un meccanismo poi a cascata angelo poi naturalmente anche mario si si ha migliorato tantissimo appunto che siamo partiti da una convenzione e oggi abbiamo oltre le 22 convenzioni con 22 compagnie quindi sicuramente il processo nel dal 2009 ad oggi ha portato un valore aggiunto e ci ha permesso di riuscire ad acquisire altri altre altre commesse con i vari diciamo sicuratori no quindi sicuramente è andato è andato molto positivo Mario si devo dire che giustamente giusto anche ammettere che il tipo di lavoro che facciamo noi è molto particolare perché gli eventi grandinigeni quando colpiscono un territorio lo saturano nel senso che la grandine colpisce in maniera democratica non guarda in faccia nessuno colpisce tutti su quel territorio dopo noi dobbiamo riuscire a smaltire il lavoro di quel territorio sfruttando ovviamente quelle che sono le risorse su quel territorio spesso e volentieri la filiera che ci permette di operare la lavorazione o meglio la catena del valore ha diversi step e anche qui forse usiamo questa occasione per intanto per scusarci con tutti i clienti che quest'anno hanno scelto la nostra azienda hanno scelto maestri perché stiamo lavorando per loro arriveremo a tutti e cercheremo di essere come al solito delle delle un'azienda che dà qualità al giusto prezzo allora ripartiamo anche ora un istante per un'altra domanda dal titolo che abbiamo voluto mettere in questo modo tecnologia innovazione ed ecologia un po' le parole chiave no tutti i vari cambiamenti anche veloci che ci sono stati nella premessa che che mi sono sentita di fare ho proprio messo in evidenza come la sostenibilità cioè che ci sia sempre più una attenzione forte per la sostenibilità e l'inquinamento ambientale da questo punto di vista il vostro settore quindi quando parliamo del mondo dei ricambi della riparazione che tipo di approccio vi ha portato ad avere cioè cos'è cambiato anche qui ripartiamo da te mario dopo sentiamo angelo allora intanto e dobbiamo fare una una giusta premessa il nostro approccio che abbiamo portato a nel settore della riparazione è assolutamente un approccio green la riparazione la tecnica di riparazione a freddo vuol dire in pratica in poche parole che noi ripariamo un'automobile colpita da grandine e quindi con diverse ammaccature senza dover intervenire con operazioni invasive di sostituzione di pezzi di ricambio e di verniciature perché appunto con l'ausilio di particolare attrezzatura si riesce a riparare quasi moltissime automobili senza dover riverniciarle questo è sicuramente un una grande rivoluzione perché si risparmiano un sacco di pezzi di ricambio che non si sostituiscono più quindi non lo si deve neanche trasportare e non si deve verniciare l'automobile quindi non si deve accendere un forno non si deve utilizzare appunto delle sostanze chimiche per ripristinare l'automobile quando questo riesce a soddisfare completamente il cliente finale è sicuramente una vittoria per l'ambiente anche perché ne abbiamo parlato tante volte i nostri amici sono attenti a questi temi in modo lungimirante tutte le aziende attente proprio all'ecologia e all'economia circolare avranno dei benefici totali insomma proprio a partire da il fatturato se vogliamo dirlo in termini proprio spicci e in termini anche di attrattività e quindi bisogna pensarci adesso perché poi magari non si hanno subito i benefici il giorno successivo ma appunto come ho detto bisogna essere lungimirante quello che si chiede un po alle nostre imprese italiane proprio per rilanciare l'economia visto che di questo si sta parlando no sono tante goccioline che poi e sono sicuro che parlando di green angelo vorrà spendere una parola per la nostra nuova casa ma infatti io ho lasciato non a caso ultima voce a mario perché ad angelo scusate perché siamo quasi in chiusura ma ho riservato proprio no no ma c'è tutto il tempo che necessita questo questo ultimo approfondimento quindi prego no dicevo volevo giustamente mario ha fatto una bella osservazione sulle centomila macchine che abbiamo riparato dal 2009 oggi ben 80 mila quindi non lavoriamo su un'otta su una scala del 80 per cento sul freddo quindi 80 mila macchine non sono state verniciate quindi vuol dire come diceva giustamente mario non sono entrate dentro delle cabine da forno non abbiamo inquinato con delle vernici non abbiamo inquinato con del gasolio quindi sull'assossibilità del green siamo molto attenti molto attenti certo ci presentavo a fare due numeri solo su varie persone a freddo e quindi posso chiedere appunto questo è importante ripeto l'ambiente e l'ecologia sono centralissimi assolutamente forse anzi ve lo chiedo abbiamo cominciato a come dire prenderne coscienza solo in tempi abbastanza recenti siete d'accordo no perché prima sembrava quasi un tema un po marginale probabilmente per molti lo è ancora no perché però ditemelo voi cosa ne pensate mario sicuramente tutti visto che abitiamo questo pianeta che è fragile e forse l'avvento di queste precipitazioni grandinigene così frequenti che si stanno avventando sul nostro territorio forse dovrebbero farci capire qualcosa sì anche frutto di non aver salvaguardato il pianeta ah beh certo sicuramente sì domanda da un miliardo di dollari ma che io faccio sempre abbiamo detto 2020 anno orribile del del covid con il lockdown poi tutto è ripartito ora come guardare al futuro adesso parto da angelo e poi torno da mario in conclusione sicuramente con con la forza almeno quello che è capitato a me due anni di diciamo di soffocamento per il covid dovrebbe dare la forza se ne usciamo spero di sì a vedere il futuro con un altro tipo di aspetto molto più carico mi sento molto carico per lanciare almeno l'azienda tre anni certo il nostro settore è ben impostato secondo te anche dopo questo questo periodo ottimo sì perché poi il gruppo ha creato anche poi un altro tipo di business che qualche compagnia ci ha già dato fiducia quindi il nostro core business è la grandine ma noi da tre anni a questa parte ripariamo anche tutte le rca sul territorio e i cristalli quindi due compagnie ci ha dato la fiducia per la gestione dei cristalli su tutto il territorio nazionale riportando il cristallo in carrozzeria e altre quattro compagnie c'è nato la fiducia sulle rca quindi noi ripariamo anche gli atti vandalici card 1 card 2 le bocciature i tamponamenti quindi il gruppo è cambiato con l'evoluzione generale e la forza che ci dà insomma mario mai mai fermarsi mai fermarsi tra l'altro una cosa da dire ne andiamo fieri di questo da quest'anno abbiamo cambiato casa ci siamo spostati presso un lo stabile l'ex stabilimento di pinin farina a torino uno stabilimento meraviglioso di un'architettura industriale stampo fiat veramente molto bello l'occasione di questo trasloco è stato proprio il momento di rivedere alcune dinamiche green intanto siamo stati asseverati da uno spin off del Politecnico di Torino che si è occupato appunto di valutare 75 aspetti della nostra realtà aziendale per appunto dare una certificazione oltretutto la nostra carrozzeria utilizza attrezzature e forni a impatto zero abbiamo acquistato più di 150 automobili ibride come nuova flotta di auto sostitutive abbiamo installato colonnine presso il nostro stabilimento pannelli solari tutto questo con l'intenzione di guardare al futuro in maniera verde e allora guardiamo tutti al futuro che ce lo meritiamo grazie angelo vicino seo gruppo maestri e grazie a mario rapetti direttore marketing gruppo mai se per essere stato stati con noi grazie a voi grazie e noi chiudiamo questo approfondimento il nostro instant focus e continuate a restare sulle fonti tv